Quanto pagheresti per una notte nel tuo hotel ideale? 170? 155? 140 euro? Stessa camera, stesso servizio, ma prezzi diversi. Sei tu a decidere. Alla reception nessuno te lo chiede. Questo è proprio quello che fa Trivago. Trivago confronta i prezzi su centinaia di siti di prenotazione. Se non vuoi perdere ore e ore a cercare, confronta i prezzi con Trivago e risparmia fino a 30 euro a notte. Hotel Trivago. Hotel Trivago.